Don Giosuè Lombardo, parroco della Basilica di Stagroce, oggi la festività di San Gennaro. È un segno della presenza del Signore in mezzo a noi, perché nel sangue dei martiri, nel sangue del martire Gennaro, si rende presente il sangue di Cristo. Il sangue dei martiri ci richiama al sangue di Gesù, ci richiama a San Gennaro come Vescovo, alla messa all'Eucarestia. Questa sera, dopo la messa delle 19, tempo permettendo, faremo una piccola processione. Quest'anno si unirà anche l'immagine di Santa Maria di Costantinopoli per andare proprio nel quartiere di Santa Maria. Non siamo potuti andare la sera del 12. Speriamo di poterlo fare stasera. Faremo via Costantinopoli, via del Plebiscito, al Palazzo Baronale, al Palazzo di Città, faremo una preghiera, perché San Gennaro è patrono della nostra città. Poi attraverso via Comici raggiungeremo Largo Costantinopoli e li faremo una preghiera con tutto il quartiere di Costantinopoli, un affidamento alla Madonna e, rientrando in Basilica, daremo la benedizione alla città dal Sagrato della Basilica, per tenerci uniti ai Santi che sono via privilegiata per incarnare, per vivere il Vangelo, di fare della vita un dono come hanno fatto loro.